Sì, ci puoi aggiornare sul progetto di rimozione per quanto riguarda le alghe al Porto e all'Ido Azzurro? Anche qui continuano le polemiche, soprattutto sui social, visto che ci troviamo in un momento particolare, cioè la stagione estiva, quindi tanti turisti, tanti cittadini che vorrebbero usufruire delle spiagge. Allora, il problema della posizione spiaggiata è una ferita aperta che abbiamo da tanti anni. E' chiaro che finché non riusciremo definitivamente a toglierle dalle spiagge non potremo calmare queste polemiche. E' anche giusto che ci siano, perché io non metto in dubbio che ci sta la metà da parte del cittadino. Il cittadino però deve sapere, questo lo possiamo dire, ma sappiamo che non abbasseremo il tono delle polemiche di Taluni, che noi stiamo facendo il possibile, perché noi fino a poche settimane fa avevamo completamente le mani legate sull'intervento, l'abbiamo detto in tanti modi. Oggi si è aperta una possibilità per poter intervenire. Siamo purtroppo arrivati molto lunghi nel periodo estivo, quindi è chiaro che abbiamo potuto fare l'indispensabile. Oggi le spiagge sono pieni di persone. E' chiaro che le operazioni di ripulizia saranno effettuate naturalmente dopo l'estate. Siamo pronti però in ogni momento se dobbiamo fare un intervento straordinario per garantire la balneazione delle nostre spiagge, però è chiaro che il grosso delle operazioni verrà fatto nel periodo autunnale. Siamo fiduciosi che però il problema sia risolto nel lungo periodo e questo ci fa star bene. Le polemiche ci stanno, le dobbiamo vivere ed è giusto anche che ci siano, però termineranno credo soltanto quando non ci saranno più le alghe sul litorale.